Devo dire che è stata veramente una bellissima idea andare a fare una vacanza con le coppiette Cioè è veramente super divertente Ho i problemi della nostra Antonella Fiordelisi Che è in quel di Ibiza Sempre per locali, per spiagge Adesso invece arriva per la battiera Non la vediamo da qualche ora Nella sua versione gym Prima però vi sentite i paoletti, ciao Di la verità, cosa hai detto? Hai detto che le persone Non ti piacciono per forza per l'estetica Ma per quello che hanno dentro E poi è giunto Infatti io sto con te Ammettelo, dillo cosiddetto, dillo Oh eccola qua la nostra perlina Ci stava mancando Vediamo meno Mirko in questi giorni Non credo siano insieme Lei è versione gym Oggi si fa la sua ginnastica con Carmine Poi chiudiamo con le foto del giorno I paoletti Angelica e sempre Mirko e Perla Ciao